La Pieve di Santa Maria, palcoscianico d'eccezione per un concerto internazionale, ad esibirsi il Martinou Quartet, uno dei quartetti d'archi più celebri e premiati al mondo. Questo quartetto ormai da diversi anni è stato fondato nei anni 70, penso 78 è stato fondato dal Conservatorio di Praga e loro girano ormai in tutto il mondo e così siamo molto contenti che abbiamo la grande possibilità di avere questo quartetto qui stasera ad Arezzo. Un appuntamento organizzato in apertura dell'anno accademico di Proxima Music. Abbiamo approfittato per regalare alla città questo concerto e quindi quest'anno contraddistinguiamo la nostra apertura dei corsi che sarà lunedì prossimo, quindi fra quattro giorni, con questo concerto e questo ci dà modo anche di ringraziare la città anche perché noi stiamo avendo un grandissimo successo di pubblico, di iscritti alla scuola e quindi dopo ormai quattro anni di attività ci sembrava anche giusto iniziare anche un qualcosa che avesse a fare con l'aspetto artistico e quindi organizzare un concerto di livello. Grazie a tutti!